La concessionaria Romeo Auto incontra sulla propria strada la Bartoccini Fortinfissi Perugia, stringendo una partnership annuale per la stagione 2019-2020 del campionato di pallavolo della Serie A1 femminile. Le giocatrici straniere della squadra del presidente Antonio Bartoccini, infatti, avranno in concessione d'uso gratuita tre vetture di ultima generazione, le DS3 Cross Pack, con le quali potranno muoversi in libertà. La consegna delle chiavi, avvenuta nella sede di Romeo Auto, in via Riodante-Barteria, Perugia, è stata l'occasione per le Black Angels di rilasciare autografie e selfie con il personale della concessionaria. Siamo felici di aver fatto questa sponsorizzazione con la Bartoccini, abbiamo colto l'occasione, il primo anno loro nella massima serie, noi lanciavamo un brand nuovo che è DS. Abbiamo pensato di creare questa partnership dando queste macchine come official car. DS è anche campione del mondo di Formula E, si è laureata quest'anno campione del mondo, e quindi come brand ha i numeri giusti per rappresentare una squadra che aspira a fare bene nel campionato. Credo che sia un buon connubio tra la nostra squadra, tra le straniere, che alcune di loro sono anche sui social molto in vista, molto forti, quindi è un bel connubio per poter lanciare sul mercato di Perugia la linea DS, che è una nuova, accattivante, molto importante. E quindi con questa auto spero che siamo sulla strada giusta.